La polizia israeliana ha disperso con granate estordenti e gas lacrimogeni una folla di fedeli palestinesi che domenica mattina si era radunata fuori dalla moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme. Le tensioni erano aumentate da qualche giorno in occasione della festività di Eid Al-Ada che quest'anno si sovrappone al Tisha B'Av, giorno in cui gli israeliani ricordano la distruzione del primo e del secondo tempio, avvenuta dove oggi si trova la spianata delle moschee. 14 palestinesi sono stati trasportati in ospedale dopo gli scontri, mentre la radio pubblica israeliana ha parlato di quattro agenti di polizia feriti. Più grave è il bilancio di uno scambio a fuoco lungo il confine della striscia di Gaza dove un 26enne palestinese è stato ucciso dai militari di Israele. Nella giornata di sabato le forze armate israeliane avevano ucciso quattro militanti palestinesi armati che stavano cercando di portare a termine un'operazione al di là della frontiera di Gaza. Nessun gruppo palestinese, incluso Hamas, ha rivendicato il tentato attacco.